Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono rallentamenti tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in entrambe le direzioni. Percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. Per quanto riguarda le autostrade, in A1 in direzione Bologna accode per il traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta. In direzione Roma si segnala una perdita di carico tra Monte San Savino e Val di Chiana. Sul raccordo Siena-Firenze possibili disagi per uno scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e in Pruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!